Un'occasione storica, così Marche Multiservizi definisce il risultato straordinario dell'ottenimento di 27 milioni e mezzo di euro di fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicati all'amodernamento della rete idrica. Un finanziamento che è stato presentato oggi in conferenza stampa, ricordiamo che Marche Multiservizi gestisce una rete acquedottistica di 5 mila chilometri, grossa parte di questo finanziamento sarà destinato all'amodernamento di 50 di questi chilometri ma poi anche tanti altri interventi dalla digitalizzazione fino all'installazione di 14 mila contatori smart. Un intervento che è stato presentato oggi con i benefici ma anche i pericoli, definiamoli così, quelli di un finanziamento PNRR legato ad una scadenza precisa, quella del 31 marzo 2026 data di consegna obbligatoria dei lavori. Va nella direzione di ammodernare tutto il nostro sistema acquedottistico, cominciando da quelle che sono le reti, ma non solo le reti, i contatori teleletti per quanto riguarda tutte le partite IVA, quindi diciamo che è un investimento complessivamente di 27 milioni e 500 grosso modo, che va nella direzione proprio di contribuire a tutti quelli che facciamo già costantemente tutti gli anni come impiantistica per ammodernare una rete che comunque sappiamo essere molto lunga perché abbiamo 5 mila chilometri di rete e con un'età media che è abbastanza elevata e conseguentemente questo è un contributo molto importante che ovviamente dobbiamo mettere a terra in tempi molto ristretti. Purtroppo il ritardo dell'assegnazione di un decreto che doveva essere emanato ai primi di gennaio, almeno così mi dicevano, è uscito il 6 di maggio e ci costringe veramente a correre perché i lavori vanno completati entro il 31 marzo 2026. C'è estrema soddisfazione, ora bisogna lavorare perché i tempi sono veramente molto stretti ma su questo ho avuto modo di verificare in questo periodo che insomma Marche Multiservizi e la struttura non avranno problemi a rispettare i tempi. La collaborazione è da parte di tutti, quindi anche dell'interautorizzativo non è secondario perché poi noi progettiamo e siamo pronti a lavorare ma se non abbiamo le autorizzazioni diventa tutto più difficile per cui un appello un po' a tutti gli enti che dovranno autorizzare questi lavori che avranno anche un indotto dal punto di vista dei lavoratori anche importante. Insomma stimiamo due o trecento persone che in più andranno a lavorare su questi quasi 30 milioni di intervento sull'idrico per cui credo veramente che oggi sia una giornata storica. Lo scopo è quello di modellare la rete, di renderla digitalmente più efficiente, più al tempo con i tempi. È un modo di dire per dire che dobbiamo sempre rinnovare e cercare di fare di meglio. Quindi abbiamo interventi che servono per appunto completare la digitalizzazione della rete, la modellazione, quindi una ricostruzione reale di tutto quello che noi abbiamo in campo per poi andare a individuare gli interventi di rinnovamento, il rinnovamento delle reti, il rinnovamento delle apparecchiature che sono in campo. Andremo a fare una ricerca perdite con tecnologie innovative, quello che viene chiamato la ricerca con i raggi cosmici. È una tecnologia sicuramente innovativa che ci consentirà di essere più veloci nella ricerca delle perdite e quindi poi dopo nella loro riparazione. Quindi correre con tante ditte, con tante professionalità messe in campo perché l'obiettivo è quello di finire tutto quanto entro marzo del 2026. Grazie. Grazie.